Sistemi pronti, signore. Malavverto, c'è una grande tempesta sulla sua traiettoria di volo. Piove sul bagnato. Beh, non possiamo più aspettare. Tony, ho caricato della musica per darti la carica. Oh. Non preoccuparti, non è mia. Ce la puoi fare. Ti ringrazio. Ok. Ok. Tre, due, uno. Stai per finire in mezzo alla tempesta, Tony! Lo vedo, ragazza, ma ormai non si torna indietro. Stai, forza! A sinistra. Accidenti! Quella tempesta mi ha distrutto il sistema. Kabbalah! Jarvis, ci siete? Ragazzi, il mio sistema mi sta abbandonando! Jarvis! Kabbalah! Jarvis, vado a fuoco! E tagli il propulsore! Devo farlo manualmente! C'è mancato poco! Oh... Si! Di adorando! Ragazzi... Si! Gi... Atterraggio perfetto. Ok. Maledizione. I repulsori hanno poca energia. Speriamo che questo posto non sia pieno di guardie. Mi sorprende che funzionino ancora dopo aver scardinato la porta. Ok, vediamo cosa c'è qui. Aspetta un attimo. Non ha alcun senso. Formula rigenerativa. Spiegherebbe la testa enorme di Tartan. È la sua fonte. Probabilmente qualche povero inumano. Ok, troviamo quella porta. Che ci vuole? Salvo l'inumano. Niente più formula rigenerativa, niente più adattoidi. Feste e batti il 5 per tutti. Capsule di salvataggio. Dietro una porta chiusa. Nessuno si è posto la domanda? ok C'è nessuno in casa? Coperto di polvere spaziale. Non passa molta gente. Bene, si può solo salire. Rilevata forma decinta, non autoestima. Ah, sì. Incendemi. Se le guardie robot non si sono svegliate così, dubito che lo faranno. La maggior parte della corrente della struttura è stata dirottata verso quell'unica stanza. Distruggendo la camera stand, non hanno svegliato i cani e la guardia. Forse sono programmati per tenere qualcosa dentro. Ecco fatto. Bingo. Non è affatto inquietante. Oh, mio Dio. Oh, dimmi che sei vivo. Steve. Steve. Oh, mio Dio, sei vivo. Tony. Aspetta. Che cos'è questa roba? Dove mi trovo? Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Tony. Mi stai abbracciando. Cosa? No. Non volevo che cadessi. E allora perché non mi lasci? Beh, io... Pensavamo che... Cioè, io pensavo che... Bentornato, Cap. Sono un po' confuso. Sì, forza. Usciamo da qui, dai. Ehi, ehi, aspetta, aspetta, aspetta. Tarleton. È sopravvissuto. Tarleton? Ma che importa? Era troppo vicino all'esplosione. È sopravvissuto. Grazie a te, a quanto pare. E a Monica, se vogliamo credere ai telegiornali. Non ha alcun senso. Ok, preso. L'evacuazione. Tutte quelle persone. Sì, poi ti racconto. Riesci a camminare? Sì. Ok. Sto bene. Andiamo. Ecco il Cap che ricordo. Forza. Ok. Qual è il piano? Eh... Beh... Dobbiamo... Trovare una capsula di salvataggio e... E... Metterci in salvo. Stai improvvisando, vero? Eh... Sì. Io... Non pensavo che sarei arrivato di nuovo qui. Credo di preferire il mio sonnellino sotto i ghiacci. Sì. Sì. Tony, dove sono gli altri? Dove siamo? Oh, beh... Nello spazio. Mio Dio. Non stavi scherzando. No. No. Non stavi scherzando? vuoi andare in bicicletta è tutta in discesa pronto a saltare tony che succede è una lunga storia per quanto tempo sono stato cinque anni per i tuoi standard è solo un sornellino vedi inizi già a fare battute banali ma questo è normale non 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 Oh, oh. Capitano Rogers. Che cos'è? Quanta fretta di andartene. Monica, quanto tempo! Non credo che il tuo amico Tarleton fosse entusiasta di usare il sangue di un supereroe per rimpiazzare i supereroi. Lui non si occupa dei dettagli. Interrompete ciò che state facendo, subito. Aspetta un attimo. George non sa niente di tutto questo, vero? E non lo saprà mai. Oh, oh. L'abbiamo fatta arrabbiare. Tony! Ti sto lavorando! Ok, fatto! Andiamo! Che diavolo! Ah, non per caso ai robot assassini! Presto! Apri la! Ci sto provando! Per essere morto ne hai, di fratelli. Dovrò usare la forza brutta. Perché non l'hai fatto subito? E' sta dannata cosa, è bloccata! Prendi una mano! Attenzione! Integrità del scacco comunale. Prendi l'altro lato. Siamo... Quasi! Tony! Abbiamo compagnia! Non c'è tempo per combattere. Andiamo! Attento! Ah, maledizio! Attento al dentro, camp! Non può sostenere il tuo peso! Ci siamo quando, quasi capo! Via, via, via! Tony! Forza! Ci sono, ma guadagno un po' di tempo! Abbiamo perso i motori, Tony! Sì, forza, sì, se ci siamo per... Cazzo... Cazzo, no, no, no! Beh, la buona notizia è che non moriremo in una palla infuocata. E quella cattiva? Credo che moriremo soffocati prima. Eh, almeno c'è una bella festa. Eh, sì. Ancora. Ce l'avamo quasi. Visto che stiamo per morire, qualcuno ha un'ultima confessione? Le tue battute, non riesco a capirle. Oh, lo so. Ho letto il tuo diario. Perché hai distrutto il reattore? Sono morti in tanti. Tony, c'era qualcosa, sepolto sotto la baia. Era collegato al reattore e saliva verso la superficie. Il terremoto? Dovevo intervenire. La faglia di Sant'Andrea sarebbe esplosa. L'oceano avrebbe inghiottito la città e fatto una strage. Non ho mai dubitato di te. Non dovevo sentirtelo dire. Che diavolo è quello? Bene, guarda chi c'è. Devo sempre risolvere tutto io? Non mi aspetto niente di meno dal Dio del Tuono. Ciao, Thor. Bentornato, Captain. Questa era la tua formula rigenerativa. George. Da quanto tempo sono la tua camia? Sapevo avresti reagito così. Preferiresti morire che farti aiutare da loro. Mi fidavo di te. Ti ho salvato la vita. Tu puoi controllare le macchine con la mente. Pensa a tutte le... Mi hai infettato con il suo sangue e avrebbe... potuto uccidermi. Non l'ha fatto. Ricorda il nostro sogno, George. Come hai potuto... rendermi uno di loro! Io ti ho reso forte. Mi hai rubato la speranza. e ora... ti offrirò le stesse probabilità che ho avuto io. Cos'è... cosa hai fatto? Libererò la Terra dai superpoteri. a costo di morire distruggendola. George! e... che chiudi... a... 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 Grazie.